Oggi vi porto a cura. Come? Con un drink per eccellenza. Iniziamo con del succo fresco di lato, bilanciamo con lo zucchero liquido e rinfreschiamo il tutto con un pochito di menta. Prepariamo il terreno per accogliere lei, la regina, la protagonista indiscussa della ricetta, Francesca... la grappa monovittinio d'Uva Merlot. Una felicità per il palato e per lo spirito. Completiamo il drink con un ghiaccio e un refill di soda. Ecco a voi l'ennesima sfida vinta dalla famiglia non niente. Il Merlot mojito. La rivoluzione continua. Be brave. Mi sgrappa.